Ben ritrovati su Retrovene e Spontini E questa è la nostra seconda registrazione Perché la prima mi sono dimenticato di registrare il gioco Perché sei un coglione E ci troviamo in una mappa un po' particolare Di Call of Duty 4 So che non è retro game come alcuni ci hanno fatto notare Ma sti cazzi il nostro canale fa quello che vuole Ma più carte non ritorneranno Esatto fra l'altro Quindi adesso andiamo a selezionare le nostre armicielle Io mi seleziono queste cose qui Tipo proprio al volo Amo cecco? Io uso il cecco senza cecco Cioè nel senso il fucile Io uso il cecco senza cecco Io uso proprio il cecco liscio Ok allora prendo tutte le mie belle perk Le belle perk Le vere perk Le perchéni E via E siamo dentro Questa è una mappa un po' particolare perché l'ho fatta io Esattamente un anno fa Non so perché non ci abbiamo mai fatto un retro rando Ed è la mia stanza Siamo squadra insieme Come siamo squadra insieme? Che palle cambia squadra Ah no ce l'ho già tutta Ok perfetto E è la mia mappa Cioè è la mia camera In versione Razz Cioè in versione gigante Dove il personaggio in realtà è piccolino E con tutti i dettagli del caso Tipo vedete queste sono le... È una parte della mia collezione Così via La c'è fracchia E infatti Dove sparare Purtroppo dovrete guardare solo me che gioco Perché abbiamo provato a fare una specie di split screen Ma non ci è riuscito Quindi sti cazzi Guardate così Se te lo dico Se te lo dico Se te lo dico Finisce la magia Io vorrei dire che all'altra partita ho vinto Ma tu sei così vile che hai fatto finta di non registrare No a dir la verità veramente non ho registrato No 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 Cioè se proprio vuoi attaccarti a queste cosucce Vincerai anche adesso se sei bravo no? Vaffanculo Guardate questo è il vecchio sito di retropli... Dove sei? Ah ti... Ah! Sì ma col cecchino sono tutti buoni Ah ho capito Lo dove hai detto che prende le cecchino Vi devo anche far vedere le sue killcam Perché è l'unico modo per vedere cosa combina Ma io non so scendere da questi posti Porca troia Ma chi te sei in culo? Oh ma che me la... Non so scendere da qui Sanzo serio Eh buttati Che morbido Non hai visto non era morbido Ah ti sei buttato veramente? Eh ho capito non so come scende No dai mi sa... Vabbè vaffanculo me la faccia a fette No andato vengo io a prenderti non ti preoccupare Che vuoi? Mi piaulo Il mio fantastico iPhone Fagli vedere il pezzo che spacchi con la granata del mobile E c'è un brasi dentro Vedete? Qua c'è... Cazzo di merda È roba che all'Activision se la sognano Infatti qua c'è modo... C'è tipo... È proprio una versione razza È come un topolino Possiamo scavicchiare ovunque E arrivare ovunque Infatti qua siamo dentro i cassetti Vedete qui ci sono i miei calzini Ci importa niente Sanzo esci e fatti ammazzare Ma sai che io... Dove cazzo stai? Eh... Sapessi... Sapessi amico mio fracchia Ti arriverò da dietro Tu chi te sei in culo? Infatti se ti arrivo io da dietro mi sa che te in culo io Se mi arrivi da dietro penso che ti sapete da dove esci Dove sei? Ti cazzi tu? Ero convinto fossi qui Dove sei? Dove sei? Bastardo! Dove sei? Guarda te! C'è campera! Campera! Ma che campero? Tu mi dici mi prendi da dietro Mi fa impanicare Dove sei? Dove sei? Non vale! Ma te mi stai a lanciare le granate? Ma che te sei in culo? Dai esci? Che ne è questa? Ah ti vedo Ah non sei lì? Basta Basta prendo anche io il cecchino Allora abbiamo capito che Allora capir che sei un coglione Besugo! Ti spacco Ti spacco Non riesco a scendere da sti posti comunque Cioè tu hai fatto una mappa dove Porco zio devi essere un paracadutista per scendere Ti dico solo che c'è un modo Ci sono tipo tre modi per scendere da ovunque Eh io non ne conosco neanche uno di ognuno dei tre modi Ecco ma affanculo Cazzo va T'ho sparato una cannonata in faccia E non sei morto Mi pare proprio Wuhu Ma che sei il bastardo Ti prendono Ahi però Che palle Io vado a vedermi le rivistine zuzze allora Capizzolini Come cazzo Qua c'è il gano No 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 Ci godo Ci godo Ti passo strano è Sono sceso da un flop Ma è caduta libera No ragazzanza serio Non so scendere da qui Cioè io vorrei fare altro Che non stare qui sopra Cioè la La mappa è tua, ma solo tu sai muoverti dentro sta... Visto qui dove sta il Game Boy, ma non... In realtà ti ho detto, c'è un modo per scendere da ovunque. Devi solo capirlo. Devi ragionare come un sorcio. Porca puttana, smettila di ammazzarmi. Ho capito, ti vedo. Non so scendere da qui. Io mi butto sul... Non posso? Oh. E tanto mi fa ripoppare qua, guarda quant'è... Baffaculo! No, dai, serio, come faccio? Odio questo posto. Mi sento l'uomo menzola, mi sento. Porco due, sono un suppellettile. Allora. Forse è coraggio. No, dai, Dio, mannaggia la... Oh, oh, attenzione. Dove sei? Non lo so, non sto più... Ah! 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 Dai, ma che era? Ma che è stato un MG, ma che è? C'è un MG sui giochi del Nintendo 64. Sei un pezio di merda. Dove sei adesso? Dove sei? Adesso è scrivo... Fracchi attivo. No! Non so se ero arrivato a Q. Ah! Si, ma... Si sarà suicidato otto volte. Diciamo che è per i jumper questa mappa. Beh, porco zio, davvero ci devi aver porno a tutta. E paraciute. Parasciute. Parasputi. Io non voglio vedere porno. Vedi che tette, oh? Ma chi è questa, oh? Ma non lo so, una è una che fa film, l'altra è una con le tette. L'altra è una che piagazzi, cioè... A quanto barbe. A quanto Marvel. Permetti di tirare a me le bombe. Oh, oh. Non ti vedevo. Eh, se tu lo dico... Diciamo che il mio è il credo dell'assassino. Eh, diciamo che il tuo è il credo di... Sai, conosci la mappa. Però vabbè. Non morire. Ah! Oddio, come t'ho preso! No, voglio vederla questa, scusa, eh. Che culo, che culo! A parte t'avevo già intato e non eri morto, quindi il culo c'hai te e noio, zio. Allora, aspetta, fammi cambiare. A mo' piglio proprio l'M21. No, che c***o? Ti spacco in due, ti spacco. Sì, ma mi spieghi perché con questo fucilazzo della madonna ti servono tre colpi per morire. Tu conosci gli spawn, però, eh. Eh, io fatti io. Eh, vabbè, ma infatti me ne accorgo che sei gli spawn, perché mi stai accoglionato, mi porta punti. Non è tanto quello, il discorso è che, cioè, tipo, ti si vede. Io sono sopra, basta che muovi un capello. Davvero, porco, due, oh. Ho lo schermo gigante, se lo vuoi. Fa culo, fottiti. Ok? Ah. Sono, tipo, deceduto. Sono male. Almeno una gioia. Ma sei morto male? Sono, tipo, cascato. Sì, beh, effettivamente mi sono fatto male. Meglio prendere un oki. Tu sta assi sull'oki. Oki doki, arrivo. Piano piano, il giovane Sansa si accinge a catturare la propria prega. Ci manca un minuto, pezzo di culo. Eh? Ci manca un minuto, pezzo di culo. Eh, lo so, ho scelto un posto infame per cercare di farti un agguato. Ci metterò una vita a uscire. Io sono, tipo, sul tuo desktop. Siamo vicino la vettoria, amico. Spacco un botteo, ammazzola, uffa mia. Dai! Cuffio P, cuffio P, l'ho sentito, ragazzi. Oddio, ma che... Cuffio P, cuffio P. Però era ancora a gongolarmi. Tu ho capito dove sei adesso. Tu puoi anche non capire dove sei. Oddio. Il tempo stava per scadere, fratello. Mordacci tui. Ma è tanto forte che ero. Ho 20 secondi. Ma quanto stai vincendo? Eh, tanto a poco per me. Eh, lo scorre così. Guardalo, si nasconde come i ratti. Ma mi stai nascondendo. Vedi che non mi stai nascondendo. Sono tornato nel mio posto, nel mio habitat. Dietro il Game Boy. Basta. Me ne vado. Ancora, nonostante Sansa è imbrogliato, ha deciso di rifare il tutto perché è una biffa e... Ah, non ho registrato neanche questa partita, cazzo. No, non sto scherzando. Comunque... C'è mi molla, dice. Cliccate mi piace alla nostra pagina, qua intanto parte la nuova mappa. Cliccate mi piace alla mia pagina Facebook, alla nostra pagina Facebook. Iscrivetevi al nostro canale, condividete il video, cliccate pollice in su, quello che volete. E ci vediamo domenica con una nuova... Ci arrivo alla sincazza. Bella per voi! Bella! Ciao! 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 Ciao!